Catanzaro fortissimo, questo è fuori discussione, ha dimostrato perché a quei punti in classifica non ha mai perso. Quanto è grande il rimpianto per l'episodio del rigore e successiva espulsione non concessa? Onestamente sì, grande, però dove magari noi abbiamo perso un po' di lucidità è stato appunto dopo l'episodio del presunto rigore dove qualcuno sia un po' innervosito ma dobbiamo anche accettare queste cose e sapere che possono accadere non è che una decisione arbitrale che dia torto poi dopo possa influire negativamente su tutta la partita quindi anche lì è un momento in cui ci sarà una doverosa crescita da parte di tutti, specie dei più giovani però dobbiamo accettare il risultato, abbiamo affrontato una squadra che sapevamo che ha un percorso diverso dal nostro lo dobbiamo sicuramente accettare questo risultato sapendo che abbiamo dei margini di crescita e passano da queste partite dove il margine di errore è ridotto e dove la qualità degli avversari è elevata quindi probabilmente l'abitudine o la poca abitudine ad affrontare una partita di questo livello per alcuni ti fa pensare che ci vorrà un attimo di tempo per arricchire il bagaglio nel percorso di ogni calciatore per far sì che poi nel futuro la si affronti in un modo diverso credo che vada dato comunque un merito alla squadra di aver messo tutto quello che aveva anche se poi si può sempre fare meglio e soprattutto un applauso ai tifosi che è stata veramente una cornice spettacolare quella che ci ha permesso di giocare quindi anche poi alla fine nonostante un risultato tutto sommato pesante la dimostrazione di affetto di tutto lo stadio ti dà ancora la dimensione di quanto questi ragazzi siano apprezzati e abbiano apprezzato i tifosi il lavoro fatto finora quindi dobbiamo solo continuare e pensare già alla prossima partita Io faccio due domande prima di una da studio di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi dal punto di vista tecnico è sbagliato dire che la qualità del Catanzaro è stata anche nettamente superiore? No, si parla di qualità poi possono essere qualità tecniche ma anche cognitive la capacità di muoversi nei tempi negli spazi giusti è una squadra che sapevamo che fosse forte e lo ha dimostrato quindi accettiamo e andiamo avanti Io l'ultima da parte mia non so se la società le chiederà tra un po' proviamo a fare lo step per provare ad andare in categoria superiore magari anche attraverso i playoff il campionario finora ha detto che il suo percorso quello che ha costruito è stato straordinario negli scontri diretti però il Pescara ha perso senza segnare gol servirà un po' più di qualità da gennaio in poi? Servirà un percorso di crescita la società ha dettato un percorso con una squadra farcita di giovani aiutati da tanti ottimi giocatori di esperienza che hanno calcato anche campi di categoria superiore non so cosa chiederà credo che chiederà di continuare in quello che stiamo facendo di credere in quello che stiamo facendo sapendo che ci sono state delle note diciamo dolenti nei confronti diretti ma è un ulteriore step che dobbiamo fare per crescere e per arrivare allo stesso livello di queste due squadre risposta chiara una domanda e lasciamo Colombo Fabio io mister al di là dell'aspetto tattico di questa gara che chiaramente ci ha visto perdenti volevo chiedere a lei se è d'accordo che dal mio punto di vista troppi giocatori hanno sofferto secondo me questa partita hanno reso meno intendo hanno reso meno rispetto a quello che fanno solitamente forse hanno pagato un po' lo scotto di questa partita così importante non so se lei dalla panchina ha visto la stessa cosa sì diciamo che è la verità che abbiamo affrontato una squadra importante quindi se qualcuno non è riuscito ad esprimersi magari ai suoi livelli è perché magari dall'altra parte c'è stato chi non gliel'ha permesso sì ripeto sono step di crescita sono percorsi che dobbiamo fare non solo dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista anche della personalità e motivo di giocare in uno stadio così in una partita così importante la definirei di categoria superiore per cui se questo è stato in alcuni hanno sicuramente i margini e noi dobbiamo aiutarli a crescere